MSI presenta al Computex 2008 Wind Notebook U100, il portatile compatto che ha tutte le carte in regola per battagliare con i PC di Asus Tech. Wind Notebook U100 monta un processore Intel Atom a 1,6 GHz di frequenza operativa e può disporre fino a 2 GB di memoria. Il display ha una diagonale di 10 pollici, retroilluminazione a LED e la risoluzione nativa arriva a 1024 x 600 pixel. Integrata nella cornice, una piccola webcam da 1,3 megapixel. A differenza dei principali rivali, Wind Notebook U100 è dotato di un hard disc di tipo meccanico da 2 pollici e mezzo di formato e capienza complessiva di 80 GB. Tra le varie funzionalità di Wind Notebook U100 segnaliamo Convenient Magnifying Capability, una lente di ingrandimento virtuale per meglio visualizzare le informazioni a schermo. Tra le altre, Turbo Drive Engine che se connessi alla rete elettrica permette di overclockare il processore del 20% mediante la pressione del tasto F10. Wind Notebook U100 pesa poco meno di un chilo con batteria da tre celle che assicura un'autonomia di funzionamento superiore alle tre ore. Il prezzo è di 399 euro nella versione con sistema operativo Windows XP Home. Prevista anche una versione con Linux offerta a 349 euro. Conettività molto completa, assieme alle tre porte USB e al connettore VGA troviamo una porta Ethernet e i mini jack per cuffie microfono. Non mancano inoltre le più recenti tecnologie di comunicazione wireless e un lettore di schede di memoria multiformato.